La vivo pista una notte, ballare un famoso flamenco Gigi D'Alessio sarà il protagonista del concerto di fine anno a Napoli. L'evento gratuito è stato annunciato dal cantante partenopeo nel corso di una conferenza stampa la presenza del sindaco di Napoli Luigi De Magistris, del direttore di RTL News Luigi Tornari e del vice direttore di Canale 5 Marco Costa. Una serata di musica e festa insieme all'artista per proseguire dopo il brindisi di mezzanotte con lo spettacolo dei tradizionali fuochi d'artificio a Castel dell'Ovo e la musica sul lungomare liberato dove saranno allestite 5 postazioni per differenti generi musicali. Ma l'appuntamento è per tutti in piazza del plebiscito per quello che si annuncia come l'evento dell'anno. Sentiamo l'artista Gigi D'Alessio. Il mio palco è aperto a tutti, io non voglio fare la prima donna, io ho avuto l'iniziativa di fare questo. Ovviamente ci sarà con me chi vuole bene ai napoletani, chi ha qualcosa da dire. Mi piacerebbe tanto quella sera dare un premio mio, il mio premio Nobel alla mamma di Ciro Esposito perché ci ha fatto fare una grandissima bella figura nel mondo. Vorrei come ospite d'onore la mamma di Ciro Esposito e consegnargli una palma d'oro. Il capodanno non mi era mai successo di farlo a Napoli, mi sembra anche giusto dopo tanti anni di carriera venire a festeggiare a casa mia. Il concerto sarà trasmesso in diretta da Canale 5 e contemporaneamente in radio con RTL 102.5 a coprire l'evento. Insieme a Gigi D'Alessio si esibiranno sul palco numerosi artisti, ospiti e amici che risponderanno all'appello del cantante partenopeo per il rilancio dell'immagine di Napoli nel mondo. Grande la soddisfazione del sindaco Luigi De Magistris, sentiamo. Abbiamo voluto comunicarlo adesso perché Napoli ormai punta ai grandi numeri per rilanciare anche il turismo e rilanciare economicamente la nostra città. È anche positivo che ci siano artisti che vogliono suonare a Napoli perché hanno ricevuto da Napoli e vogliono dare a Napoli. Poi questo è un concerto che per il comune è a costo zero, quindi ha un altro significato importante e si ritorna con il concerto di Piazza Plebiscito insieme a Lungomare e le altre parti della città. L'intera città sarà coinvolta e noi siamo soddisfatti anche dell'interesse nazionale perché andiamo in diretta sul canale 5 RTL e quindi si va in tutto il mondo.